Hanno dimostrato di non mollare mai, hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Che rimonta, eh Luca, cosa ne pensi? A un certo punto per loro la partita si era messa male, ma non si sono fatti scoraggiare. Hanno continuato a crederci e a spingere. Alla fine sono riusciti a ribaltare il risultato, una grandissima prova di forza e carattere, di cui i loro tifosi saranno certamente fieri. Si chiude qui il nostro collegamento. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. Grazie. 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 Grazie.